Allora, arriva questa bella partecipazione, sapeva che ero fidanzato con questo mio marito, questo fidanzatino mio, allora finalmente arrivò la partecipazione e lei venne e mi disse guarda, fino adesso noi abbiamo fatto i regali, i bicchieri, le posate, i piatti, a te vorremmo farti un, se lo accetti, vorremmo fare un quadro, io rimassi un quadro, sì, disse il professore però, disse sì, un quadro Antonietta, grazie, guarda io rimassi felice, non lo so, non so esprimere le parole, dopo due giorni arrivò, già era pronto, arrivò questo quadro ingartato, tutto bello, convenzionato e mi portarono il quadro, a casa eravamo impegnate nelle preparative e mi disse il professore insieme alla signora, questo è il tuo regalo, oggi non lo potrei, forse non ti piacerà, ma domani pensa che sarà un ricordo bellissimo, l'abbiamo aperto, io sono rimasta anche aperto, ed è una cosa cara per me.